La faccia del sindaco avverte, qui bestemmiare è vietato, pena la multa. Ecco il cartello distribuito in questi giorni nei bar e negli esercizi pubblici del comune di Montegrotto. La bestemmia offende te stesso e chi ti sta vicino ha fatto stampare il sindaco. Una campagna per ritrovare rispetto per gli altri, dove Massimo Bordin ci mette la faccia. Se io applicavo l'ordinanza integrale, allora diventa un papiro che nessuno legge e nessuno vede. Mentre se vedono un'immagine comincia a procurare un attimino di discussione. I cartelli anti bestemmia sono stati stampati in seguito all'ordinanza emanata in agosto, secondo cui chi pronuncia il nome di Dio in vano rischia una multa da 51 a 309 euro. L'iniziativa si prefigge di valorizzare i principi di civiltà e di buona educazione, in particolare per le nuove generazioni. I giovani crescono come noi li facciamo crescere, per cui se noi diamo degli esempi sbagliati, loro crescono in modo sbagliato. Se diamo degli esempi giusti, loro cresceranno nel modo giusto. Intanto, in paese l'ordinanza suscita già le prime reazioni. Ecco cosa dice il gestore di un noto bar del posto, che ha già affisso il cartello. Mi ricordo che appena ho cominciato a lavorare, insomma, circa dai 30 ai 40 anni fa, c'era già sui bar vecchi questi adesivi in latta con scritto vietato bestemmiare. Nonostante i buoni propositi, da parte dei clienti non sono mancati i commenti e la rita. Un po' si sono messi a ridere per il sindaco, sinceramente, però è giusto così, insomma, ecco.